Buonasera e benvenuti. Sono Federico Rampini, giornalista, scrittore, nomade globale che di solito sta dall'altra parte del mondo rispetto a voi, in America, in Asia, in Africa, ma stasera mi fermo qui per queste inchieste da fermo, in cui vi porterò in viaggio nei due maggiori imperi del nostro tempo, America e Cina, alla ricerca della loro vera natura, delle loro forze, delle loro debolezze. Mi aiuterò con questo tablet, con il totem che sta alle mie spalle e ricorda lo schermo di uno smartphone dove chiamerò ospiti, interviste. Comincerò dall'America, paese dove abito da 23 anni, del quale ho preso anche la cittadinanza e che stasera mi suggerisce il colore delle bretelle. Comincerò da un capodanno di 23 anni fa, subito dopo la pubblicità. Buonasera, benvenuti a inchieste da fermo, un viaggio in due puntate, nelle due grandi potenze del nostro tempo, Cina e America. Stasera cominciamo dagli Stati Uniti e vorrei iniziare da una notte di molti anni fa, il capodanno del 2000. Voi dove eravate? Chi di voi non era ancora nato? Ecco, si alzano un po' di mani, certo perché stasera noi abbiamo in studio un pubblico di studenti internazionali, studenti universitari, quindi giovani. È normale che molti di voi non fossero ancora nati nel 2000. Io al passaggio del millennio stavo preparando il mio trasloco da Milano a San Francisco e ricordo l'incubo della ricerca di un appartamento. Non solo gli affitti a San Francisco erano i più cari del mondo, ma non c'erano proprio appartamenti liberi. San Francisco in quel momento era già la capitale di internet, un fenomeno ancora giovane, la prima rivoluzione digitale. Quindi c'era anche tanta inflazione, era una città carissima. Io andavo a vivere in un'America che era all'apice della sua potenza, aveva vinto la guerra fredda con l'Unione Sovietica e ancora non intravedeva nella Cina una possibile rivale. Dov'era il presidente americano di allora, Bill Clinton, quella notte alla fine del millennio, era a Washington. Guardiamolo. Signore e signori, il presidente degli Stati Uniti, i benefici economici della globalizzazione, i benefici politici della democrazia e dei diritti umani, i benefici per l'educazione e la salute, di tutto ciò che è moderno, da internet all'enciclopedia genetica, fino ai misteri al di là del nostro sistema solare. Forse non possiamo eliminare tutte le conseguenze negative della globalizzazione, ma possiamo comunicare di più, viaggiare di più, commerciare di più, in un modo che migliora ovunque la vita delle comuni famiglie di lavoratori e la qualità del nostro ambiente globale. Il testimone è passato ad un nuovo secolo di giovani americani. È un discorso tipico di quell'epoca. Trassudava ottimismo sulla globalizzazione, i benefici economici, il progresso tecnologico e anche in fondo il futuro della democrazia che doveva diventare molto più diffusa nel mondo intero. L'America di oggi, 23 anni dopo, non è più così ottimista. Eppure rimane la potenza numero uno al mondo. Perché? Grazie a quello che io chiamo un quadrilatero magico. Gli Stati Uniti hanno una superiorità che è fatta di quattro cose fondamentali. Una moneta universale, la superiorità tecnologico-militare, una popolazione che sta ancora crescendo e, quarto punto, l'autosufficienza energetica. Paradosso, gli americani sono convinti che la loro economia sia in declino. L'80% dei cittadini americani oggi pensano che i propri figli staranno peggio. Eppure il primato degli Stati Uniti rimane solido, come conferma l'infografica che adesso guardiamo. Qui vediamo il disegno è quello dei PIL, prodotto interno lordo per paesi. Vedete che la Cina si avvicina ma ancora il sorpasso cinese non è avvenuto e anzi viene rinviato. Faccio una piccola notazione su questa classifica per paesi. Questa è del 2022, in realtà nel frattempo l'India è già balzata davanti al Regno Unito e tallona la Germania e, purtroppo per noi italiani, la Corea del Sud ha superato l'Italia. Comunque, pur avendo il 4% della popolazione mondiale, l'America produce il 25% del reddito mondiale e ha mantenuto questo peso negli ultimi 40 anni malgrado l'ascesa della Cina. Il reddito medio dei suoi abitanti è cresciuto più di quello degli europei. Nel più povero di tutti gli Stati USA, che è il Mississippi, il reddito pro capite annuo è di 50 mila dollari, cioè superiore a quello medio dei francesi. Allora, torniamo a dare un'occhiata al mio quadrilatero magico e partiamo dal denaro. Ancora oggi la maggior parte degli scambi internazionali vengono pagati in dollari. Quali sono i fattori che spiegano questa supremazia mondiale del dollaro? L'ho chiesto a un economista famoso, Carlo Cottarelli. Ascoltiamolo. La supremazia del dollaro, che cosa vuol dire prima di tutto? Vuol dire per esempio che le transazioni e le operazioni internazionali sono pagate in dollari e che poi soprattutto le banche centrali dei vari paesi detengono le loro riserve soprattutto in dollari. Perché questo? Tenerli in dollari vuol dire investirli in titoli di Stato americani, per esempio. Il mercato americano è un mercato molto ampio, per cui le riserve investite in dollari sono molto liquide. È molto facile vendere titoli di Stato americani e questo attrae molto le banche centrali che devono ottenere riserve che sono liquide. Io credo che il dollaro andrà avanti ancora parecchio, essere la principale valuta di riserva. Il mimi cinese è ancora conto per poco più del 2-3%. Grazie a Carlo Cottarelli. Ci vediamo tra 60 secondi dopo il Superspot. Bentornati. Stavamo parlando della persistente forza del dollaro come primo elemento di quel quadrilatero magico che illustra la forza degli Stati Uniti. Pensate che la stessa Cina, pur essendo la più grande potenza commerciale del mondo, deve usare prevalentemente il dollaro nei suoi scambi con gli altri paesi e deve tenere, lo diceva Cottarelli, le riserve valutarie della sua banca centrale prevalentemente in dollari. Quella cosa che ha detto prima Cottarelli, ci torno sopra per un attimo. Dietro il ruolo del dollaro c'è il mercato finanziario più liquido del mondo. Vuol dire che se voi possedete un titolo americano è facilissimo venderlo. Quello vuol dire la liquidità di un mercato. E poi c'è uno Stato di diritto che vi protegge, protegge il vostro interesse di investitori. Quadrilatero magico, punto 2, la forza lavoro. Quella americana è cresciuta del 30% dal 1990. È il secondo elemento di superiorità degli Stati Uniti perché la popolazione cresce ancora grazie a quel sogno americano che attira immigrati da quattro continenti. Il 17% della manodopera americana oggi è fatta di stranieri. Non esistono né un sogno russo né un sogno cinese per compensare la denatalità di quei paesi. La superiorità tecnologica è il terzo punto di forza americano. L'abbiamo vista di recente ancora nella gara sui vaccini contro il Covid e poi purtroppo anche nella guerra in Ucraina. Eppure capita spesso di sentire che Big Tech in America è in crisi. Ascoltiamo che cosa ne pensa Alec Ross che è un esperto di tecnologia, un imprenditore, è stato consulente di Barack Obama e oggi è anche docente alla Business School di Bologna. Ecco l'intervista. Questo concetto di crisi in realtà non esiste nella mentalità americana. Quindi quando parliamo di crisi di Big Tech, ma quale crisi? Sono ricchissimi, hanno un livello di potere pazzesco. Ma quando io leggo i giornali italiani parlano di crisi, licenziamenti, ma dai scusa sono ricchissimi. Sta andando benissimo a Silicon Valley. Sì c'erano piccoli, c'erano dei licenziamenti, ma sono ritornati a livelli di occupazione di 2021. C'è ragione che la maggior parte dell'innovazione in questo mondo viene da paesi come gli Stati Uniti, perché siamo un po' cowboys, non abbiamo paura del fallimento. Il processo di innovazione richiede sperimentazione. Per capire Silicon Valley dovete capire che questo concetto di crisi non è un vero crisi. Guarda OpenAI con ChatGPT, questo è un processo di Microsoft. Il problema con Big Tech non è che ci sono crisi. Il problema è che mancano concorrenti. Il problema è che sono troppo potenti. Il problema è che non sono in crisi. Il problema è che forse hanno troppo potere. Le aziende americane oggi, pensate, possiedono più brevetti tecnologici di quelle cinesi e tedesche messe assieme. Non solo le ultime rivoluzioni tecnologiche sono avvenute in America, ma anche quella in corso. E di solito tra l'altro sempre in un pezzo d'America che è la West Coast. Quella in corso che riguarda l'intelligenza artificiale, partita di nuovo da lì. Dentro le tecnologie dobbiamo includere anche la componente militare. Le forze armate degli Stati Uniti sono le uniche ad avere una proiezione globale. Quante sono le basi militari americane nel mondo? L'ultimo conteggio dice 544 in 159 paesi, tra cui ovviamente l'Italia. Guardiamo a proposito una mappa delle principali basi americane in Italia. Ho detto principali, guardate, per esempio non sono neanche indicate quelle della Sardegna. Queste sono solo le più grosse. Vanno da Aviano nel nord-est fino a Augusta in Sicilia. La spesa degli Stati Uniti per la difesa quest'anno è a quota 800 miliardi di dollari. Ufficialmente è la più alta del mondo, anche se nella realtà la spesa cinese si avvicina. Però nella potenza americana non bisogna tener conto solo delle forze armate statunitensi. C'è un altro modo per farsi un'idea di quella che è la vera forza militare degli Stati Uniti e l'ho chiesto a un'esperta di geopolitica, la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, Natali Tocci. Eccola. Gli Stati Uniti sicuramente sono e continuano ad essere e continueranno in realtà ad essere, diciamo, nel futuro prossimo, la prima potenza militare globale. Detto questo, soprattutto in un mondo che effettivamente sta diventando sempre più bipolare, c'è chi dice multipolare, in realtà c'è da chiedersi che cosa c'è oltre. Proprio perché il potere effettivamente si sta ridistribuendo nel sistema internazionale, diventano molto più importanti i partenariati, le alleanze rispetto a quanto non lo fossero in passato. Se pensiamo che l'altra potenza, grande potenza in ascesa è la Cina, e guardiamo qual è la differenza tra Stati Uniti e Cina proprio quando si parla di alleanze. Il fatto che in realtà gli Stati Uniti appunto hanno partenariati e alleanze, hanno potenze che si vogliono avvicinare agli Stati Uniti. La Cina in realtà incute timore, terrore ai suoi vicini, diciamo è una potenza che reperde gli alleati più che li avvicina a sé. Quindi questa componente introduce una quarta, quarto angolo del mio quadrilatero magico della forza americana, che è energia. C'è stata una rivoluzione tecnologica, soprattutto negli Stati Uniti, di quella dello shale gas. Cos'è lo shale gas? È un gas che viene estratto da sabbie e rocce. Con questa rivoluzione l'America ha smesso di dover importare energie fossili dal mondo arabo. È una novità sconvolgente. Nel 1973 l'embargo petrolifero dei produttori arabi dell'OPEC aveva messo l'America in ginocchio. A quel tempo l'America dipendeva dal petrolio arabo. Ci fu la stagflazione, stagnazione più inflazione. 1979, rivoluzione comeinista in Iran. Di nuovo, shock energetico. In America c'erano code e risse dai benzinai. Facciamo un salto al mondo contemporaneo, 2022-2023, e abbiamo un'America che quando l'Europa rimane a corto di gas russo può mandare le sue navi di gas liquido. Questo è un mondo completamente diverso. L'America di Biden sta investendo molto anche nelle energie rinnovabili. A favore delle rinnovabili ci sono una serie di manovre di sussidi pubblici che Biden ha varato per un valore di 370 miliardi. Vuole recuperare sovranità nei pannelli solari e nelle batterie elettriche, riportandone la produzione sul suolo americano. Le immagini che vedete sul totem, alle mie spalle, sono quelle di file di pannelli solari. Laggiù in fondo ne vedete proprio una distesa sterminata. Riguardano un impianto di fotovoltaico che occupa un'area di 600 ettari. Si trova nella contea di Brasoria, in Texas. Si stima che nei prossimi anni arriverà a produrre in media da 400 a 500 gigawatt di energia solare all'anno. È un investimento realizzato da Plenitude, una società controllata dal gruppo Eni, che integra la produzione di energie rinnovabili con servizi e anche una rete di ricarica per veicoli elettrici. Nella transizione alle rinnovabili dell'America, quindi c'è un ruolo per l'Italia. Plenitude negli USA possiede, oltre a quasi un gigawatt di potenza già installata, distribuita tra il nord-est e il Texas, anche altre attività. Se restiamo in tema di politica energetica americana, Biden spinge su tutte le energie alternative. Tra le sinergie con Leni ci sono la bioraffinazione, i biocarburanti. E infine c'è questa. Guardate le immagini sul totem, rappresentano degli atomi leggeri che si cercano, si avvicinano. E fra le sfide che Biden ha in agenda c'è la tecnologia di fusione. Per saperne di più su questa tecnologia ne ho parlato con Francesca Ferrazza, responsabile dei progetti Eni relativi alla fusione magnetica, sostenuta anche dal governo federale. In che cosa consiste quindi questa fusione? Ascoltiamolo. La fusione è la scelta dell'universo. È l'energia che illumina le stelle, il sole. È una forma di energia in cui due isotopi leggeri di idrogeno si fondono per generare elio e una grandissima quantità di energia. E questo è il punto, una grandissima quantità di energia. Quindi con una piccola quantità di questi isotopi che si possono trovare nell'acqua, quindi un bicchiere d'acqua è in grado di generare una grande quantità di energia. Ovviamente è un'immagine, però per dire che c'è bisogno di veramente poca, poca materia per fare tantissima energia. Ed è una forma di energia decarbonizzata, intrinsecamente, sicura e che permette di generare energia in maniera continua, che è quello che serve per alimentare le attività umane. Poi le ho chiesto che cos'è cambiato negli ultimi anni dal punto di vista tecnologico-industriale per spiegare l'evoluzione delle politiche energetiche del governo Biden in questo campo. Negli ultimi anni quello che è successo è che sono intervenuti dei fatti tecnologici nuovi, quindi delle innovazioni, dai magneti alle proposte di macchine per produrre la fusione sulla terra, che va a delle condizioni estremamente importanti, grandissime temperature e così via. Quindi questi fatti tecnologici hanno provocato anche l'ingresso di privati che hanno investito in delle start-up, anche l'ENI ci crede in questo senso. E questo ha dato una spinta anche per accorciare i tempi di industrializzazione, e quindi ha dato alla fusione la possibilità anche, e questo l'ha visto il governo americano, di entrare di fatto nel portafoglio di energie decarbonizzate insieme alle altre, insieme alle rinnovabili, per esempio, di cui può costituire un ottimo complemento. Altre fonti rinnovabili dipendono da metalli e minerali il cui ciclo è controllato prevalentemente dalla Cina. Mi sono chiesto, le ho chiesto, se questo vale anche per la fusione magnetica. La fusione è una fonte di energia che ha bisogno di costruire centrali. Per sua natura è meno dipendente di altre fonti energetiche, da metalli rari e minerali che sono magari monopolio di alcuni paesi. Certamente ce ne sono alcuni, però uno studio recente ha mostrato come siano disponibili questi materiali in diversi posti nel mondo, per cui in qualche modo è una fonte di energia che può rendere più indipendente il suo utilizzo rispetto a determinati equilibri geopolitici. A differenza degli Stati Uniti, che oggi sono diventati autosufficienti dal punto di vista energetico, la Cina rimane il più grosso importatore mondiale di energie fossili. Le deve ricevere in particolare dal mondo arabo, dal Golfo Persico. Le grandi navi superpetroliere che trasportano questo petrolio arabo o iraniano verso la Cina devono attraversare gli 800 chilometri dello stretto di Malacca. È un passaggio cruciale, importantissimo. Una delle comunicazioni marittime più antiche del mondo, tra Singapore e la Malesia, è presidiato soprattutto da flotte militari statunitensi. In caso di conflitto, lo stretto di Malacca viene considerato da esperti di geopolitica come una specie di vena giugulare con cui l'America potrebbe strangolare la Cina bloccando i suoi rifornimenti petroliferi. Pechino incalza, il suo riarmo accelera e per esempio ha già superato l'America per numero di navi militari. La potenza dell'America significa che è una nazione guerra fondaia? In passato ha fatto guerre sbagliate, perfino criminali. I due casi più gravi restano il Vietnam e l'Iraq. Da qui a descrivere l'America come l'impero del male, l'unica superpotenza aggressiva, questo è il passo che compiono Xi Jinping e Vladimir Putin. Secondo loro la guerra in Ucraina è una guerra per procura. Gli ucraini sarebbero non solo aiutati, sostenuti, armati, ma anche aizzati dall'America per indebolire la Russia. Sentiamo di nuovo Natali Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, per rispondere a questa domanda. L'America sostiene l'Ucraina perché ne ricava dei vantaggi? Spesso si dice che la guerra in Ucraina è una guerra per procura, una guerra da cui gli Stati Uniti guadagnano, guadagnano militarmente, guadagnano da un punto di vista energetico. Basta pensare alla riduzione della dipendenza dell'Europa sulla Russia e il modo in cui gli Stati Uniti sono subentrati nel gioco energetico. In realtà a ben vedere per certi mezzi è esattamente il contrario, nel senso che oramai sono anni già dall'amministrazione urbana, che gli Stati Uniti tentano ripetutamente di allontanarsi dall'Europa perché in realtà sanno benissimo che la prima sfida degli Stati Uniti è la Cina, quindi in realtà vorrebbero riorientare le loro forze nell'area dell'Indo-Pacifico e vengono costantemente riportati indietro, trattenuti in Europa e nel suo vicinato turboletto. Quindi sì, gli Stati Uniti hanno un vantaggio dalla guerra in Ucraina che consiste nel recuperare leadership sugli alleati europei, ma hanno un svantaggio, un danno, che è la distrazione di energia, di risorse strategiche, rispetto a quella che dovrebbe essere la loro vera priorità, e cioè la Cina. Nel caso di un'invasione cinese di Taiwan l'America sarebbe ancora in grado di reagire? Probabilmente perfino le munizioni sarebbero insufficienti nel caso di un secondo conflitto, dopo che le forniture all'Ucraina hanno assottigliato gli arsenali americani. I war games con cui il Pentagono simula un conflitto danno gli americani quasi sempre perdenti, sconfitti dalla Cina nel caso di un intervento militare per bloccare l'invasione di Taiwan. Torno da Nathalie Tocci con questa domanda. Che conseguenze ha la guerra in Ucraina su Taiwan? Ascoltiamo. In un viaggio recente a Taiwan in un colloquio con la Presidente Tsai, Tsai mi chiese ma voi che cosa avete imparato dalla guerra in Ucraina? E naturalmente la domanda era rivolta a Taiwan. Per Taiwan c'è un tema di difesa e di deterrenza. Quindi anche qua vedendo quello che è il parallelo con l'Ucraina, evitare che arrivino anni una volta che inizia una guerra, anche perché diventa piuttosto difficile fa sì che le armi arrivino in un'isola una volta che eventualmente dovesse iniziare un'invasione. E qua ritorna il tema delle alleanze. Quindi qual è il ruolo che può e deve svolgere il Giappone? Il ruolo della Corea del Sud? Il ruolo di queste nuove forme di alleanze? Gli Stati Uniti sono capaci di creare questi partenariati, queste alleanze e ripeto non esercitano la loro forza attraverso il timore e la paura. In realtà è proprio, diciamo, questo far squadra che può eventualmente rappresentare questo deterrente principale della Repubblica Popolare Cinese. Per quanto noi la consideriamo una potenza imperiale, l'America di oggi non è più una nazione guerriera. Gli Stati Uniti oggi hanno un problema di reclutamento umano nel settore della difesa. L'esercito USA ha 30.000 posti vacanti. Il Pentagono era solito attingere le sue nuove reclute a un bacino tradizionale e conservatore. Circa l'80% di quelli che si arruolano provengono da famiglie di militari o di ex militari. Questo segmento della popolazione americana oggi si sente relegato dalla parte sbagliata della storia. Nei sondaggi solo il 38% degli americani dichiara di nutrire valori patriottici. Inoltre c'è un problema fisico. 77% dei giovani americani non sarebbero idonei al servizio militare neanche se volessero farlo per ragioni di salute. E dietro questa statistica si nasconde una montagna di problemi. Obesità, diabete. Per finire con le tossicodipendenze. Ogni anno il fentanil un opioide sintetico che è da 50 a 100 volte più potente della morfina così come altri farmaci uccidono più di 100.000 persone e distruggono la vita di altri milioni di individui e di famiglie. Ora vedremo Kensington Avenue. È una strada di Filadelfia divenuta tristemente famosa per essersi trasformata in un porto franco attraversato giorno e notte da esseri umani disperati. Sono le povere vittime del fentanil e di altre sostanze responsabili della morte di migliaia di giovani americani. Le immagini di Kensington che state vedendo mi ricordano qualcosa che io ho visto nel cuore di San Francisco nel centro storico dove accade una ecatombe di morti per overdose. Intanto l'America si avvia verso le primarie e l'elezione presidenziale del 2024. Chissà quanto peso avranno questi temi nella campagna elettorale che è cominciata così. In order to make America great and glorious again I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Avete sentito gli slogan Let's finish this job finiamo questo lavoro Joe Biden Let's make America great and glorious again rendiamo l'America di nuovo grande e gloriosa Donald Trump Sarà davvero la prima gara tra due ottoagenari o quasi? Se andrà così sarà senza precedenti nella storia. Guardiamo cosa accade nei due campi tra i repubblicani fino a poco tempo fa brillava la stella di un italo-americano il 45enne governatore della Florida Ron DeSantis DeSantis ha catturato l'attenzione nazionale per la sua crociata contro il politicamente corretto è in guerra con la Disney che gestisce il Disney World di Orlando sul suo territorio la Disney la multinazionale dello spettacolo ha contestato denunciato un'iniziativa del governatore della Florida DeSantis vieta di insegnare educazione sessuale fluida alle elementari perché la considera un incitamento a mettere in discussione la propria identità di genere e non vuole che siano scavalcati i genitori tra le battaglie valoriali di DeSantis bisogna aggiungere quelle contro l'aborto e l'immigrazione clandestina sullo sfondo c'è un successo economico di DeSantis lo dimostra la gara interna agli Stati Uniti tra la sua Florida e lo stato di New York dove abito io due modelli di destra e di sinistra che si contendono l'America sta vincendo la Florida per adesso questo lo confermano i dati sull'esodo da nord a sud dieci anni fa lo stato di New York e la Florida avevano la stessa popolazione oggi lo stato meridionale ha due milioni e mezzo di abitanti in più 22,2 milioni contro i 19,7 dello stato dove abito io un tempo da New York partivano verso il sud soprattutto pensionati benestanti che andavano a trascorrere la vecchiaia al sole oggi Miami è una città più giovane di Manhattan e piena di start up una delle ragioni dietro lo spostamento di persone e imprese è la pressione fiscale tutte le tasse sono più basse in Florida rispetto a New York ma non c'è solo quello c'è chi si sposta in Florida per ragioni professionali Alessia Fornoni italiana è una docente di farmacologia molecolare all'università di Miami si è trasferita molti anni fa e quindi è stata testimone del grande boom della Florida sentiamola da un punto di vista dell'ecosistema anche fiscale Florida riuscirà ad attrarre il pollo tecnologico dalla California dal North East da New York perché davvero è stato un ambiente un ecosistema molto favorevole per gli investitori un influsso di fondi di investimenti di venture capital che davvero ha reso la città molto più vibrante molto più dinamica molto più attiva se noi guardiamo alla crescita delle istituzioni negli Stati Uniti e paragoniamo ad esempio l'università di Miami ad altre università ma storicamente molto Ivy League Harvard Stanford possiamo vedere che la crescita di istituzioni come l'Università di Miami è immensa non solo sono un accademico con una cattedra che insegna gli studenti che vede pazienti ma anche un accademico che può inventare che può far start-up company e questo secondo me è il sogno degli scienziati di oggi negli ultimi mesi la stella di De Santis è stata oscurata dal grande ritorno di Donald Trump una parte degli americani continua a vedere in lui The Donald 77 anni compiuti un simbolo e un vendicatore nonostante l'assalto alle istituzioni da lui incitato il 6 gennaio 2021 rivediamo quello che di pazzesco avvenne in quel 6 gennaio sono immagini che non cessano di spaventare We're going to walk down Pennsylvania Avenue I love Pennsylvania Avenue and we're going to the Capitol Oh fuck See how fast the cops turn around once they fucking saw the numbers game I love you I love you I love you Io c'ero per me è un turbamento personale come corrispondente alla Casa Bianca accreditato quel giorno ero in prima linea testimone diretto ad ascoltare il suo comizio e poi a vedere l'inizio dell'assalto al Campidoglio. Però vedete l'incriminazione di Trump da parte del procuratore new yorkese Alvin Bragg gli ha offerto un'occasione per rilanciarsi, perché quel procuratore è un magistrato eletto, molto politicizzato, di estrema sinistra, il cui nome è associato all'aumento della criminalità nella città in cui abito, a New York. Il sindaco di New York, il mio sindaco Eric Adams, che appartiene allo stesso partito e allo stesso gruppo etnico, è afroamericano e democratico come Alvin Bragg, descrive in toni drammatici la situazione dell'ordine pubblico. Di recente il sindaco ha parlato di una emergenza recidivi, denunciando il fatto che ci sono 1700 criminali già condannati per reati violenti che girano liberi in città. Adams, il sindaco, è un ex capitano di polizia, è stato eletto proprio perché prometteva di migliorare la sicurezza a New York e lo hanno plebiscitato in particolare quelle minoranze etniche, i black come lui, i latinos, che abitano nei quartieri dove le gang sono tornate. Il sindaco è anche il capo della polizia da noi, ma ha ereditato un New York Police Department indebolito e delegittimato. Il suo predecessore, Bill de Blasio, tagliò i fondi alle forze dell'ordine dopo le accuse indiscriminate di razzismo dell'estate 2020, in seguito al barbaro omicidio di George Floyd e alle proteste del movimento Black Lives Matter. La polizia è sotto organico, fatica a reclutare nuovi addetti e poi anche quando gli agenti arrestano qualche delinquente in flagranza di reato, spesso la procura lo libera subito. Una tragedia della New York violenta ebbe come vittima un giovane ricercatore torinese, Davide Giri, assassinato in questa città alla fine del 2021. L'autore dell'omicidio era un membro di una gang criminale. Vediamo un'intervista a Eleonora Francica, studentessa della Columbia University. Il servizio girato al campus della Columbia di New York è di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. Davide Giri è morto il 2 dicembre 2022, ma in quell'ultimo mese noi studenti della Columbia già sentivamo nell'area, percepivamo questa insicurezza, perché la Columbia aveva mandato nel corso delle settimane prima l'uccisione di Davide diverse email in cui appunto venivano denunciate proprio dagli studenti attacchi agli studenti e almeno una volta a settimana c'erano degli attacchi fisici. Per la prima volta ci siamo resi conto di quanto la città di New York fosse pericolosa. Il fatto è che questa è una città anche molto individualista e soprattutto post-Covid, a livello di sanità mentale, la città è molto decaduta. Soprattutto a New York questa violenza ormai è stata talmente naturalizzata che purtroppo certi pericoli, certi eventi che accadono, certi omicidi che vediamo tutti i giorni diventano degli episodi a cui siamo abituati. Però molte cose stanno cambiando proprio nelle minoranze etniche. Ad esempio perché una parte della comunità afroamericana ha preso le distanze dal radicalismo di Black Lives Matter? E cosa c'è dietro lo spostamento a destra di altre minoranze etniche? Trump nel 2020 ha perso le elezioni a livello nazionale, eppure ha aumentato i suoi consensi tra i Black e i Latinos. Ha stravinto fra gli immigrati ispanici, cittadini americani ma di origine ispanica, nelle contee di frontiera con il Messico, proprio lì dove è visibile il suo muro. Ma perché chi entra negli Stati Uniti rispettando la legge non condivide i programmi della sinistra più radicale che vorrebbe spalancare le frontiere a tutti? Chi si è lasciato alle spalle? Il caos? La violenza? Territori dove comandano i narcos e le gang dà valore all'ordine e alla sicurezza. Ma tornando invece alla condizione degli afroamericani, abbiamo la testimonianza di un grande intellettuale Black, il professor Shelby Steele, scrittore e docente all'Università di Stanford in California. La mia prima domanda è questa, qual è il bilancio del movimento dei diritti civili degli anni 60 e com'è cambiata l'America da allora? Sentiamo il professor Steele. Il movimento per i diritti, culminato alla metà degli anni 60, nel 1964 con la firma del Civil Rights Act, quel movimento che era guidato da Martin Luther King, ecco quel movimento per i diritti civili credo che sia stato uno dei più grandi movimenti nella storia dell'uomo. Io sono cresciuto negli anni 40, 50 e 60, quando il razzismo era una cosa reale, controllava ogni aspetto della mia vita, era profondamente integrato con tutto, relazioni personali, dove vivevi, che scuola avevi frequentato, chi potevi frequentare e chi no. Ora non ci sono scuse. Chiunque dica che negli Stati Uniti esiste un razzismo sistemico, vi prego di credermi, è un imbroglione. Poi ho chiesto al professor Steele, lei come giudica il movimento di protesta Black Lives Matter, la cui influenza è cresciuta enormemente dopo l'assassinio di George Floyd, quindi dal 2020 in poi. Black Lives Matter, nella mia opinione, e credo che molti neri la pensino come me, non rappresenta la comunità nera. È quello che chiamiamo un leader nell'industria della lamentela. Ci sono persone che prendono le accuse di razzismo e le usano per spremere denaro da altre persone che molto spesso vogliono genuinamente solo fare delle cose buone per le minoranze. Black Lives Matter ha ricevuto 83 miliardi di dollari in contributi. Quindi il punto è che il dolore e la sofferenza nell'America nera rappresenta un'opportunità per gente che vuole approfittarne. Il senso di colpa dei bianchi sta diventando uno dei problemi principali nelle relazioni etniche. I bianchi sentono questa pressione, devono costantemente provare che non sono razzisti. Dammi dei soldi, così ti compri una protezione dall'accusa di essere razzista. Ho chiesto al professor Steele qual è la sua opinione sulla affirmative action, cioè quell'insieme di trattamenti preferenziali che vengono concessi, in particolare ai neri, per l'accesso al sistema universitario e anche in altri campi. Ascoltiamo. L'affirmative action ha peggiorato le cose in tanti modi. Abbiamo da quasi 60 anni. College e università danno la precedenza a minoranze e specialmente ai neri. Quello che stai facendo è mettere un marchio su tutti quei neri dicendo l'unico modo di entrare in questa università sarà grazie al colore della tua pelle, non grazie al tuo talento, al tuo impegno o ai tuoi risultati. E quindi, ancora una volta, l'affirmative action ha inaugurato questo modello di colpevolizzazione dei bianchi. Spendere denaro non per risolvere un problema o aiutare i neri a farlo, ma per provare l'innocenza dei bianchi. La mia ultima domanda è stata, lei come percepisce oggi la sua identità? Parlo solo per me stesso. Dico che io sono un americano, prima di tutto. Sono un americano. Poi, soltanto dopo tante altre cose, sono nero. E di questo sono orgoglioso. Sono un americano. E semplicemente voglio essere trattato come tutti gli altri americani, senza differenze, né meglio né peggio. Mi fa male vedere come le persone oggi sposino profondamente l'idea della loro vittimizzazione. Noi come individui, come cittadini della nostra nazione, rappresentanti della nostra cultura, dobbiamo costruirci una vita partendo dal fatto che ora siamo persone libere. Sono opinioni molto nette quelle di Shelby Steele che avete appena sentito. Diciamoci la verità, anche coraggiose. Nel clima ideologico dominante oggi, Shelby Steele in molte università americane non potrebbe nemmeno prendere la parola. Dopo la pubblicità torneremo a parlare di complicazioni interetniche. C'è un'altra complicazione dietro il tema del razzismo. È un po' un tabù. I conflitti tra comunità etniche minoritarie, specie tra afroamericani e asiatici. Tenete presente che il gruppo etnico che gode del massimo successo oggi negli Stati Uniti, successo accademico, professionale, economico, non siamo più noi bianchi. Sono gli asiatici, l'insieme degli Asian American. Questo contraddice molti stereotipi su schiavismo e razzismo. Tra gli Asian American esistono discendenti di schiavi, i coolies cinesi che arrivarono a costruire le ferrovie in America, lo indentured labor indiano, nonché figli di migranti poverissimi. La loro ascesa sociale è avvenuta senza favoritismi. Essendo troppo bravi in campo accademico, ora sono il bersaglio di una discriminazione alla rovescia. Nel mondo universitario, dove esistono corsie preferenziali per promuovere le minoranze etniche sfavorite, quella asiatica viene sacrificata per far posto agli afroamericani e agli ispanici. L'etica del lavoro e dello studio che si tramanda da generazioni tra cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti, diventa una colpa. E così le frange radicali dei movimenti antirazzisti prendono di mira gli asiatici, li etichettano come white adjacents, subalterni ai bianchi o collaborazionisti dei bianchi. Con la ricandidatura di Joe Biden e Donald Trump, la storia ci promette uno scenario inaudito, da qui a là può ancora succedere di tutto, ma se davvero nel novembre 2024 saranno quei due lì, a contendersi i voti della nazione, non ci sarà mai stata un'elezione con due candidati così anziani. Dei due, Biden è il più anziano e il meno in forma. Le tv di destra si concentrano impietosamente sulle gaffe di Biden, lo descrivono come un vecchio sull'orlo della demenza. Un altro problema di Biden si chiama Kamala Harris. La sua vice ha deluso un po' tutti, ma soprattutto la sinistra del Partito Democratico. Siccome è donna e di colore, di origini indiane e afro-caraibiche, era stata automaticamente catalogata come una ultra-progressista. invece è andata in America centrale a dire non vogliamo più rifugiati, non venite, vi aiuteremo a casa vostra. Proviamo a capire qual è la temperatura attuale negli Stati Uniti insieme con un osservatore molto acuto, Carlo Invernizzi, docente di Political Science alla Columbia University di New York. Gli abbiamo rivolto due domande. La prima è questa. In che stato versa la democrazia americana? La democrazia americana è in crisi, però d'altra parte la crisi fa parte della natura della democrazia. La democrazia è un sistema basato sul cambiamento e quindi sulla crisi costante. La società americana è estremamente polarizzata, politicamente, socialmente, ma io direi addirittura antropologicamente. Un'America urbana, democratica, progressista, liberale e un'America rurale, conservatrice, nazionalista, trumpista. L'amministrazione Biden, da quando è al potere, ormai da tre anni, ha passato un'enorme quantità di riforme, anche importanti, ha speso migliaia di miliardi, facendo molte delle cose che le sinistre di tutto il mondo pensano sia necessario fare per combattere il populismo nazionalista, su infrastrutture, su programmi sociali, sulla transizione ecologica. E ciononostante, nei sondaggi, Trump e Biden sono ancora 50 e 50, perché il voto in America ormai è scollegato dalle questioni di policy e diventa un voto identitario? Faccio una precisazione su un termine che usa Carlo Invernizzi e che non ha lo stesso senso in America e qui da noi. Quando parla di America rurale, non dovete immaginare l'America dei contadini, delle campagne agricole. Rurale vuol dire la provincia. La seconda domanda a Carlo Invernizzi è quali saranno i temi che contano davvero da qui alle elezioni del 2024? La transizione ecologica è sicuramente un tema importante in America, ma di cui si parla pochissimo. E paradossalmente anche la guerra, anche la guerra in Ucraina è un tema importantissimo per il futuro geopolitico del mondo, ma che secondo me giocherà un ruolo relativamente marginale in questa campagna. Mentre in realtà i temi clivanti, i temi strutturanti dell'opinione pubblica sono tutti di politica interna e tutti relativamente autoreferenziali, cioè questa questione del woke, del rapporto alle questioni di genere e di razza. L'inflazione, se Biden riuscirà o meno a far scendere l'inflazione, secondo me è la più grande questione che determinerà se avrà una chance di vincere queste elezioni o no. Un'altra piccola traduzione per gli italiani, il termine woke è una delle tante parole con cui descriviamo il politicamente corretto. Ora, Biden, lo diceva in vernizio in questa intervista, può avvantare dei successi economici, la disoccupazione in America è ai minimi storici. La pandemia e le manovre di spesa pubblica decise sia da Trump sia da Biden per aiutare la popolazione hanno ridotto le diseguaglianze. Il mercato del lavoro post pandemia ha premiato proprio i salari più bassi. La disoccupazione tra gli afroamericani è scesa in modo spettacolare, è quasi uguale a quella dei bianchi e cioè minima. Tra Trump e Biden la continuità è evidente su terreni cruciali. La risposta muscolosa alla competizione cinese, le restrizioni all'immigrazione clandestina che hanno contribuito a sollevare i salari più bassi fra la popolazione residente, le generose manovre di sussidi durante la pandemia. Trump e Biden si descrivono l'un l'altro come una sciagura, un disastro, un nemico dell'America eppure su aspetti qualificanti hanno adottato politiche simili. La narrazione conta però e quindi il discorso politico influisce sulla percezione che gli americani hanno sullo stato del paese. Allora vi ricordate siamo partiti da un quadrilatero magico della forza imperiale americana, ma gli manca un centro, gli manca un cuore forte che sarebbe l'autostima, la fiducia nei propri valori, la coesione nazionale, l'ottimismo sul futuro del paese. Alla luce di tutto quello che abbiamo sentito finora, qualcuno vede una ragione per avere fiducia nell'America? Sì, salve, buonasera a tutti, sono Pasquale De Gaetano e studio nel Master Green Management alla Brogna Business School. Buonasera. Per le tematiche inerenti al mio percorso di studi ho fortemente fiducia nell'America, in quanto anche con il Presidente Biden ci sono state molte politiche volte al cambiamento climatico. Basti pensare che una delle prime iniziative è stato il rientro nell'Accordo di Parigi o ancora, come detto poco prima, circa i 370 miliardi di dollari distanziati per arrivare entro il 2030 al meno 40% di emissioni di CO2. Tutte queste politiche mi fanno ben sperare avere fiducia nell'America. Grazie. Grazie. Questa sua risposta tra l'altro ci collega immediatamente con il tema successivo perché un altro pezzetto di quella politica di Biden è un embargo sulla fornitura di tecnologie avanzate alla Cina. Sono le grandi leggi varate da Biden in questo periodo, l'Inflation Reduction Act e il CHIPS Act. Insieme valgono 500 miliardi di dollari di aiuti, dalle energie rinnovabili fino ai semiconduttori, cioè cominciano a tornare in America delle produzioni, delle fabbriche che per decenni erano state delocalizzate verso la Cina o verso anche Taiwan. In questo momento abbiamo dei giganti industriali come Intel, che è americana, ma anche la taiwanese tsmc, la sudcoreana Samsung, che stanno costruendo nuove fabbriche di semiconduttori microchip in diversi stati USA, dall'Ohio all'Arizona. E gli europei temono che anche le loro multinazionali siano risucchiate, attratte sul territorio nordamericano da questi sussidi. Per esempio la Volkswagen vuole fabbricare batterie per auto elettriche in Nord America in modo da incassare le agevolazioni. Sull'embargo di forniture di tecnologia avanzate alla Cina, ascoltiamo di nuovo l'opinione di Alec Ross, l'esperto di politiche tecnologiche. La decisione dell'amministrazione di Biden di non dare accesso ai semiconduttori, ma anche altri prodotti tecnologici negli Stati Uniti e in Cina si rallentano il progresso tecnologico di Cina. Perché in realtà in Cina ci sono tante competenze, ci sono tanti spazi di eccellenza, ma in questo mondo dei semiconduttori in realtà esiste per la maggior parte in Taiwan e nei Stati Uniti. Sì, ci sono pochi altri punti, ma al cuore dello sviluppo tecnologico adesso ci sono questi semiconduttori. Abbiamo visto dei abusi da Cina e questa è la risposta di Biden. Quindi siamo nel cuore del tema, la sfida tra America e Cina. Per approfondirlo abbiamo qui con noi un'imprenditrice molto nota, ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera. Emma Marcegaglia, oggi l'America ci sta chiedendo di seguirla in un percorso quasi aritroso rispetto all'ultimo trentennio della globalizzazione, non proprio smontare la globalizzazione, però ridimensionarla, ridurre i rischi, diminuire la nostra dipendenza dalla Cina e aumentare, favorire i legami economici tra Paesi alleati che condividono gli stessi valori. Secondo lei il mondo delle imprese italiane ci sta a seguire questa nuova strategia dettata da Washington? Io penso che alle imprese italiane questo atteggiamento oltre un certo limite non conviene. Noi siamo grandi esportatori, l'anno scorso abbiamo fatto il record di esportazioni 600 miliardi di euro, lavoriamo con tutti i Paesi, lavoriamo molto con gli Stati Uniti, lavoriamo con la Cina meno per esempio della Germania, ma la Cina è importante e quindi secondo me quando tu interrompi i commerci tu crei meno crescita, non fai trasferimento tecnologico, riduci le opportunità. Quindi oltre un certo livello secondo me l'impresa italiana non vuole seguire questo, io penso che la globalizzazione cambierà ma non è finita, penso però che lo vedo anch'io da imprenditrice, è sbagliato quello che abbiamo fatto in passato dove abbiamo concentrato tutte le nostre forniture prevalentemente in Cina, quindi anche in una logica di gestione migliore del rischio va bene diversificare, ok comprare dalla Cina ma è meglio comprare anche dagli Stati Uniti, dalla Polonia, dall'Africa, ma un'idea di staccarsi completamente dalla Cina secondo me all'impresa italiana non fa bene, non è una buona cosa nemmeno per l'economia mondiale, il Fondo Monetario ha stimato che se il commercio dovesse venire interrotto o ridotto ci sarebbe molta minore crescita. Prima una domanda molto molto specifica, cioè la sua impresa dove ha i maggiori mercati di sbocco? I nostri mercati di sbocco sono prevalentemente Europa, tutta l'Europa, l'Europa storicamente inizialmente Europa del Sud, Europa centrale, oggi anche con gli ultimi investimenti acquisizioni anche Europa del Nord e Europa diciamo della parte paesi baltici, Stati Uniti, abbiamo poi imprese dove produciamo in Brasile, produciamo anche in Messico, quindi direi prevalentemente i mercati di sbocco sono questi, mentre compriamo materia prima in molti paesi del mondo ma anche in Cina e in Asia. Ecco, voglio venire proprio a questo punto. Io ricordo il clima che c'era in Italia un anno fa a quest'epoca, quando già da un po' di mesi era cominciata purtroppo la guerra in Ucraina ed erano cominciate le sanzioni economiche contro la Russia. C'era un clima apocalittico, non è accaduto, anzi il 2022 è stato un anno ottimo per le esportazioni italiane perché abbiamo perso un mercato russo che è sempre stato piuttosto piccolo perché la Russia è una piccola economia, in compenso abbiamo esportato tantissimo nell'Unione Europea e in Nord America. Nonostante questo, cioè nonostante che i nostri interessi prevalenti siano più a nord-ovest e quindi su un asse europeo e atlantico, lei non ha l'impressione che in questo paese la guerra in Ucraina abbia fatto rinascere un anti-americanismo un po' viscerale? Forse sì, io però personalmente ho molto chiaro da che parte noi dobbiamo stare, noi dobbiamo stare con gli Stati Uniti, con le loro contraddizioni, ne hanno tante, hanno fatto degli errori in passato ma sono una democrazia, non possiamo certo stare né con la Cina né con la Russia. Ciò non vuol dire che noi come Italia e anche l'Europa debba cercare di avere un ruolo nell'evitare un conflitto tecnologico e molto profondo tra Stati Uniti e Cina, perché questo è in parte in corso, poi ci sono dei tentativi mi pare da entrambe le parti di provare a sanare questo, perché secondo me entrambi sanno che non possono fare a meno l'uno dell'altra, però c'è una guerra tecnologica molto forte, c'è una sorta di guerra fredda nuova giocata sulla tecnologia. Ecco, mi piacerebbe che l'Europa, l'Italia anche per quello che può, ma l'Europa giocasse un ruolo in questo, cercando di far capire che invece un'apertura dei mercati, alcune regole multilaterali a cui tutti noi aderiamo servono, non si può andare ognuno per controproprio, ognuno contro l'altro, perché come dicevamo prima, questo indebilebbe l'economia globale. Quando ci si chiude non c'è trasferimento di tecnologia, i talenti si possono muovere meno, insomma c'è meno crescita. Credo che dobbiamo approfittare della sua presenza qui per dare anche l'opportunità agli studenti che sono con noi, farle qualche domanda. Buonasera, mi chiamo Aurora Vancini, ho 24 anni e sono studentessa del corso di laurea magistrale in Economics and Econometrics dell'Università di Bologna. Volevo chiederle che cosa ne pensa della politica di aiuti alle imprese del governo Biden. Grazie. Questa è una domanda molto importante. Io penso che questa politica di aiuti degli Stati Uniti verso le imprese e le famiglie sono soprattutto per quelle imprese e quelle famiglie che investono in trasformazione, in decarbonizzazione. E questa è una buona notizia perché se è solo l'Europa che investe nella trasformazione e nella lotta ai cambiamenti climatici non risolviamo il premio Biden. Quindi questo è positivo. L'aspetto non del tutto positivo è il fatto che una parte di queste iniziative sono cosiddette discriminatorie, cioè danno crediti fiscali solo alle imprese che vanno a produrre là e quindi anche un'impresa europea che noi dovremmo essere amici degli Stati Uniti, dovremmo avere le stesse culture, che non va a investire là, quindi non diventa americana ma esporta per esempio prodotti decarbonizzati, non può avere questi vantaggi dal punto di vista del credito fiscale. Quindi questo secondo me non è positivo, però ripeto rimane interessante il fatto che finalmente anche gli Stati Uniti intendono investire in decarbonizzazione. Come sapete l'Europa vale l'8% delle emissioni di CO2, se facciamo moltissimo noi andiamo anche a zero, ma gli altri non si muovono, noi non faremo, non vinceremo la battaglia contro il cambiamento climatico. Grazie, credo che abbiamo un'altra domanda dagli studenti per Emma Marcegaglia. Buonasera, sono Saide Bayat, io studio all'Università di Bologna. Chi ha fatto più bene l'economia americana, Biden o Trump? Beh, su questo io non ho nessun dubbio. Biden sta facendo un'operazione di supporto all'economia. Ha mantenuto questo approccio un po' protezionistico e di l'America viene prima di Trump, però lo ha fatto in una logica secondo me più ampia e come dicevamo prima qualche atteggiamento troppo protezionistico oggi lo sta in parte cambiando proprio per venire incontro alle esigenze anche dei suoi partner. Grazie. Ancora una domanda da uno studente per Emma Marcegaglia. Buonasera, sono Edoardo Liccio e studio all'Università di Bologna. Per quanto riguarda la corsa alla transizione energetica, lei vede in vantaggio gli Stati Uniti o la Cina? Io penso che oggi sia in vantaggio la Cina. La Cina oggi produce il 70% dei pannelli fotovoltaici, ha una posizione di leadership sull'auto elettrica, ha tutte le materie prime fondamentali per la transizione energetica. O le ha in Cina o le porta in Cina e vengono trasformate in Cina. Quindi oggi certamente c'è un vantaggio competitivo della Cina. Gli Stati Uniti insomma se ne sono resi conto. Si sono resi conto che probabilmente la vera frontiera futura di chi vincerà la grande sfida economica sarà proprio sulle tecnologie della transizione energetica e quindi secondo me oggi gli Stati Uniti stanno cercando di recuperare il tempo che è stato perso. Per esempio sotto Trump questo tema non esisteva, addirittura c'era un atteggiamento negativo, quasi di negazione rispetto alla transizione energetica. L'Europa era partita molto bene, oggi rischia non decidendo di fare un fondo sovrano per esempio dove metti insieme tutti i vari fondi di tutti i vari paesi o fondi europei per investire in questo, mantenendo una burocrazia troppo forte, rischia di perdere posizione. Quindi questa è un'attenzione che l'Europa deve avere a questo tema. È partita presto ma rischia oggi di perdere terreno. Voglio osservare che un aiutino alla Cina lo hanno dato anche gli americani sulle tecnologie della decarbonizzazione. Faccio un esempio fra tanti. Elon Musk che è andato a costruire in Cina la più grande fabbrica Tesla del mondo. Grazie Emma Marcegaglia. Ci fermiamo un attimo e subito dopo verrà un altro amico a trovarci. In America esiste una potente lobby filo cinese che resiste. Da Apple a Goldman Sachs, da General Motors a Walmart a Tesla, molti gruppi capitalistici americani sono legati a Pechino. Elon Musk è tornato di recente alla corte di Xi Jinping e è stato accolto con tutti gli onori. Perché nel trentennio della globalizzazione ruggente, quando l'America e la Cina sembravano gemelle siamesi, unite in una simbiosi, molti giganti del capitalismo hanno accumulato profitti enormi grazie ai loro legami con Pechino. Sia perché fabbricavano a minor costo, sia perché vendevano ai consumatori locali. E c'è chi non vuol saperne di spezzare quei legami. Per esempio, Elon Musk costruisce una nuova fabbrica di batterie elettriche per la sua Tesla a Shanghai. Apple è in una posizione leggermente diversa perché comincia a pianificare il cosiddetto friend shoring, la rilocalizzazione in paesi amici. Oggi Apple assembla in Cina l'85% dei suoi iPhone e iPad. In futuro vuole spostare il 40% tra India e Vietnam. L'India, la più grande democrazia del mondo, potrebbe offrire ai capitalisti americani un'alternativa e rendere un po' meno costosa la riduzione dei legami con la Cina. Visto che ho parlato di Apple e Tesla, torno sul tema big tech. In che stato è il capitalismo digitale della Silicon Valley? Distruzione creatrice. Questo principio del capitalismo che domina nella Silicon Valley a me evoca un ricordo personale di una delle tante bolle speculative scoppiate in modo fragoroso proprio all'epoca del mio trasloco da Milano a San Francisco nel 2000. Perché nel marzo del 2000 un crollo di borsa, Nasdaq, colpì la prima industria legata a internet. Sembrava un colpo mortale e in effetti molte aziende fallirono, però la Silicon Valley è ripartita, è rinata tante volte, più forte e più innovativa di prima. La nuova febbre dell'oro, quella che è in corso adesso, è la corsa all'intelligenza artificiale. Noi da anni siamo già circondati da applicazioni dell'intelligenza artificiale. I studenti universitari che sono qui lo sanno bene, spesso l'intelligenza artificiale sta già sostituendo interi mestieri o funzioni lavorative che non sono più svolte da esseri umani. Qualcosa di nuovo però sta accadendo da alcuni mesi, se ne parla molto di più, perché con l'avvento di chat GPT e di altri robot dialoganti, macchine scriventi, è arrivata sul mercato una forma di intelligenza artificiale che è di facile uso per le masse. Questa è la vera novità. E tutti possono divertirsi a fare scrivere testi da queste macchine che apprendono da sole. Io ci ho provato, ho fatto una mia gara personale di scrittura con chat GPT, ho scelto un tema che conosco, ho chiesto all'intelligenza artificiale un articolo di scrivere un articolo sulla conquista cinese dell'Africa. Ha sfornato un testo di media qualità, io penso che io posso fare di meglio. Il problema è che chat GPT lo ha scritto in pochi secondi e quindi sulla velocità io sono sconfitto. La potenzialità di questa tecnologia la stiamo scoprendo strada facendo. Perfino i suoi inventori ammettono di non sapere fino in fondo come funziona. che è leggermente inquietante. E c'è nell'aria l'eccitazione che precede, accompagna una rivoluzione tecnologica ai confini della fantascienza, un balzo prodigioso. Ora ne parliamo con Rita Cucchiara, una delle esperte italiane nel campo dell'intelligenza artificiale, professoressa al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia e autrice di un libro per Mondadori. L'intelligenza non è artificiale. La mia domanda alla professoressa Cucchiara è questa, perché tutto continua ad accadere sempre lì e proprio lì in California? Le grandi università tecnologiche sono lì, le grandi aziende tecnologiche sono lì e l'economia capace di generare start-up in modo molto facile è sempre lì. E soprattutto queste grandi università, dal mio punto di vista, sto parlando di Stanford, sto parlando di Berkeley, sto parlando di tutte le altre università della California, hanno creato una cultura per cui già dai ragazzi, se si va in queste zone della California, si vede perfettamente pensare che l'obiettivo della propria vita è quello di dominare la tecnologia e crearne della nuova. Io penso veramente che questo legame profondo che c'è tra le grandi università e le grandi aziende sia unico nel mondo. Faccio degli esempi concreti. Stanford e Google, che sono a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, si scambiano molto spesso i dirigenti e i professori, cosa che magari non capita molto spesso nelle altre parti dell'America che sono più legate alla produzione, penso al mondo del Texas o al mondo della finanza, come un altro e non capita purtroppo, dico purtroppo perché siamo europei in Europa. Nel video che abbiamo appena guardato abbiamo sentito parlare di università. Io vivo negli Stati Uniti, ho una figlia che è docente universitaria in California e so quello che sta succedendo negli Stati Uniti tra gli studenti universitari. In America molti studenti hanno cominciato a usare chat GPT per imbrogliare, per barare, si fanno scrivere saggi universitari dall'intelligenza artificiale. Ora, io non vi chiedo di autodenunciarvi, però ditemi se vi risulta che anche in Italia sta succedendo qualcosa di simile. Buonasera, mi chiamo Francesco, ho 24 anni e sono uno studente in magistrale all'Università di Bologna. Io mi autodenuncio senza problemi, nel senso che lo ritengo un nuovo strumento nell'arsenale degli studenti. Io lo uso per aiutarmi a programmare perché sono un programmatore molto mediocre e mi aiuta a correggere il codice. È usato in modo pervasivo sia dagli studenti delle superiori che dagli studenti dell'Università. Credo però che non debba rappresentare un grande problema perché come tutte le nuove tecnologie rappresenta una sfida che invece di essere vietata, credo vada regolamentata e il suo utilizzo reso possibile a tutti allo stesso livello, anche in contesto universitario. Interessante. Io ho solo una perplessità e cioè in America parlo proprio per esperienza vissuta. La vostra generazione scrive abbastanza male in inglese. Sembra strano, ma arrivano all'università e non sanno scrivere. E non vorrei che l'intelligenza artificiale diventasse una scusa in più per non imparare a scrivere. Però è molto giusta l'osservazione sul usarla come uno strumento. Però mi viene da fare invece un'altra domanda che si collega a quello che abbiamo sentito sul rapporto che c'è negli Stati Uniti fra grandi università e colossi di big tech. Allora, ChatGPT ha dietro Microsoft. Un altro strumento dell'intelligenza artificiale che è Bard, è di Google. Perché queste cose nascono negli Stati Uniti? Vi sembra normale che tutto questo accada sempre là e non qui, per esempio a Bologna? Avete una spiegazione? Prego. Buonasera, mi chiamo Niccolo Guidi, ho 23 anni e studio economia all'Università di Bologna. Secondo me la situazione appena descritta è avvenuta perché in Europa le start-up e le piccole aziende hanno sempre fatto più fatica a trovare i fondi per crescere e svilupparsi e in più il bacino di utenti che devono raggiungere è più eterogeneo rispetto a quello statunitense. In questo contesto le aziende americane che sono riusciti a svilupparsi detengono ormai un oligopolio nel settore tecnologico. Questo le porta a comprare sistematicamente i loro concorrenti europei e non e quindi a far sì che un ecosistema innovativo non riesca a crearsi qua in Europa. Grazie. Ma io sull'intelligenza artificiale voglio sentire anche un ospite molto speciale che abbiamo con noi stasera, che non collegate necessariamente con le tecnologie, è un grande maestro del cinema italiano, il regista Pupi Avati. Grazie. Grazie. Io ti voglio provocare su questo. Sai benissimo che c'è stata un'avvertenza sindacale piuttosto dura a Hollywood nel cinema americano. Gli sceneggiatori, gli scrittori di sceneggiature in America avevano delle rivendicazioni economiche, salariali, ma volevano anche con questa protesta sindacale chiedere tutele contro l'invasione dell'intelligenza artificiale che sta accadendo anche in quel settore. Ecco, tu dirigeresti un film la cui sceneggiatura è stata scritta da una macchina? Secondo te che mi conosci potrei fare una cosa di questo genere? Arrivare a un'aberrazione di questo genere? Assolutamente no. C'è una differenza sostanziale nei riguardi di quelle che sono le attività che richiedono una creatività individuale che attiene al talento personale, che ha qualche cosa di misterioso e di sacrale, che nessuna macchina saprà mai riprodurre. Io ho conosciuto alcuni grandi del nostro tempo, parliamo di Fellini, Pasolini, lo stesso Lucio Dalla. Ecco, questi geni assoluti con i quali sono stato, in che modo potevano essere in qualche modo preoccupati dall'insorgere, dall'avere accanto a sé una macchina che tentava di girare a cattone o di girare a otto e mezzo. Cioè dove veramente la creatività individuale che è un mistero per noi stessi. Frost diceva una cosa della poesia magnifica, diceva che la poesia si fa da sé. Cioè la poesia è qualche cosa di misterioso che è preesiste, è preesistente al poeta. E il poeta si deve porre in quella condizione di ascolto per cui viene a un certo punto perfuso da quello che scrive queste cose, che non gli appartengono totalmente, che gli derivano da qualche cosa che nessuna macchina. È evidente che la pigrizia dell'essere umano e soprattutto il fatto che queste macchine fanno di tutto per escluderci in qualunque tipo di contesto. Fanno di tutto per far sì che l'essere umano non occorra più, non serva più, ma non deve essere così. Hanno ragione i sceneggiatori americani. Grazie. Torneremo da te e parleremo di sogno americano. In America e quindi nel mondo intero la ricreazione è finita. Intendo che si è chiusa un'epoca di credito facile quando per contrastare prima la crisi finanziaria del 2008, poi la pandemia, le banche centrali, a cominciare dalla Federal Reserve americana, inondarono tutte le economie del pianeta di moneta. Nacque perfino una nuova dottrina che sosteneva la ricreazione eterna, cioè che si poteva stampare moneta in quantità illimitata per sempre, senza controindicazioni, che i debiti pubblici potevano salire nella stratosfera senza alcun danno. Quella lunga ricreazione si è conclusa da quando è rinata l'inflazione e le banche centrali hanno dovuto combatterla rialzando i tassi di interesse. I rincari del credito colpiscono tutti. Colpiscono le famiglie che devono fare un mutuo o ripagarlo. Colpiscono le imprese che devono finanziare i propri investimenti. Danneggiano paesi emergenti che sono fortemente indebitati. E infine danneggiano anche le banche che hanno titoli a reddito fisso che si svalutano. E questo tra l'altro vi spiega perché ci sono stati quei crack bancari cominciati proprio nella Silicon Valley. Nel lungo termine l'America ha un problema identico a tanti altri paesi. Spesa pensionistica e sanitaria che continua ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Debito pubblico che non può salire all'infinito. Però, però, il più famoso di tutti gli investitori americani, l'anziano saggio e multimiliardario Warren Buffett, disse questa frase. Chi scommette contro l'America nel lungo termine ci perde sempre. Sui diversi fattori che rendono gli Stati Uniti un paese fortemente competitivo, ascoltiamo di nuovo l'economista Carlo Cottarelli. L'economia americana è molto competitiva e molto produttiva. Si tratta prima di tutto di un paese con una popolazione molto giovane, l'età mediana è inferiore ai 39 anni. Conta molto il fatto che c'è un flusso di entrate, di forza lavoro dall'America Latina a basso costo che aiuta molto a fare attività di imprese. Il costo del lavoro è relativamente basso per una certa produttività. C'è il fatto che è un paese dove è molto facile fare investimenti. Il rispetto della legge è elevato, è semplice interagire con lo Stato. Ci metterebbe anche il fatto che la cultura è tale per cui bisogna competere e sforzarsi nella vita. Quante volte capita di vedere a guidare il taxi qualcuno che era stato un imprenditore fino a due settimane prima? Naturalmente ci sono anche degli svantaggi perché la protezione sociale è molto più bassa negli Stati Uniti che per esempio in Europa e la distribuzione del reddito è diventata sempre più sbilanciata negli ultimi 40 anni negli Stati Uniti e si è anche fermato quell'ascensore sociale che una volta funzionava bene negli Stati Uniti. A Cottarelli ho fatto un'altra domanda. Biden distribuisce generosi sussidi pubblici per riportare sul territorio americano industrie che erano finite altrove e sembra che ci stia riuscendo. 800 mila posti di lavoro in più nati in due anni negli Stati Uniti solo per l'effetto di queste rilocalizzazioni, reindustrializzazioni. Ma questo è un pericolo per gli europei? Sentiamo la risposta. I sussidi che gli Stati Uniti, che il Presidente Biden sta dando a certe parti del sistema produttivo sono senza dubbio un pericolo per l'Europa se l'Europa non reagisce. I sussidi che sono stati di recente approvati da queste leggi contano andare a fare i calcoli di circa in media allo 0,1% del PIL nella media dei prossimi decenni. È un 0,1% del PIL che focalizzato su certe imprese fa una grande differenza naturalmente, focalizzato in certi mercati fa una grande differenza per questo è necessario che l'Europa risponda. Però non è qualcosa che l'Europa non si può permettere, uno 0,1% del PIL se lo può permettere certo la Germania, certo la Francia e direi anche l'Italia. E a questo punto la parola passa a voi, gli studenti che sono questa sera in studio insieme a me. Siete voi che avete la possibilità di interrogarmi. Buonasera, mi chiamo Anita Mancosu e studio Economia Entriennale all'Università di Bologna. La mia domanda riguarda l'argomento debito pubblico. Il Fondo Monetario Internazionale nel consultation article di luglio 2022 ha giudicato alto il rischio di default degli Stati Uniti. I bond americani sono parte del portfolio di moltissime banche centrali, quindi in una prospettiva di default americano, quale può essere lo scenario per le economie europee che sono altamente interconnesse con quella americana? Grazie. Dunque, un vero default che vuol dire bancarotta, vuol dire fallimento sovrano degli Stati Uniti sarebbe un'apocalisse. Non accadrà. Io situerei quella previsione del Fondo Monetario a cui lei si riferiva a quel periodo specifico in cui il Congresso degli Stati Uniti non stava autorizzando il Governo federale ad alzare il livello del debito e quindi a emettere nuovi titoli per finanziarsi. Questo è uno psicodramma che ogni tanto si ripete negli Stati Uniti, che fa tanta paura però di solito ha un happy ending, un lieto fine. Io lo chiamo il teatro kabuki della politica americana. Teatro kabuki è un antico teatro giapponese dove gli attori indossano delle maschere feroci, fanno la faccia feroce. Quando c'è un presidente democratico e un congresso, un ramo del congresso a maggioranza repubblicana, spesso si produce questo stallo che fa temere lo scenario catastrofico del default. Però poi alla fine il congresso ha votato l'aumento del debito pubblico e quindi il default non ci sarà per fortuna. Altre domande? Salve, il mio nome è Gianluca e la mia domanda è, è vero e quanto è vero che in America la sanità e la scuola sono private? È abbastanza vero, con dei limiti. Certamente rispetto all'Europa c'è molto più privato, sia nella sanità americana sia nella scuola, il che significa anche dei costi per molte persone, per molte famiglie. Non è tutto privato. Esiste una sanità pubblica in America. I due sistemi principali sono il Medicare, che copre gli anziani oltre i 65 anni, che è a gestione pubblica, e il Medicaid, che copre coloro che stanno sotto la soglia della povertà, che è una soglia abbastanza alta, 22 mila dollari di reddito annuo. Anche questo è pubblico. Quindi esiste una sanità pubblica americana, però per tutti gli altri valgono invece le polizie assicurative private. Chi ha la fortuna di lavorare per un'azienda grande, ricca, ha delle ottime polizie assicurative private, chi se la deve comprare da solo spende un sacco di soldi e quindi è un sistema pieno di problemi, senza alcun dubbio. La scuola pubblica esiste, però c'è un robusto settore privato in concorrenza ed è lì che c'è quella iperinflazione dei costi, di cui tutti avete sentito parlare, per cui si arriva ai livelli estremi che nel cuore di Manhattan o di San Francisco, di quelle città più costose. Se mandate un figlio in una scuola di lusso privata per ricchi avrà un'istruzione fantastica, ma i costi possono essere anche intorno ai 50 mila euro all'anno per un liceo, non sto parlando dell'università, un liceo. La scuola pubblica nelle grandi città ha dei problemi che sono legati all'enorme varietà etnica, per cui spesso la scuola pubblica, siccome è il luogo dove ci sono tantissimi figli di immigrati, ha un livello di apprendimento dell'inglese che è meno buono della scuola privata e questo provoca l'esodo verso l'insegnamento privato. Dal 1977 a oggi, è un anno su cui mi soffermo perché è l'anno in cui ho cominciato a lavorare come giornalista, un milione e mezzo di americani sono stati uccisi con armi da fuoco nel loro paese. Un'ecatombe che supera tutti i morti di tutte le guerre combattute dagli Stati Uniti. Restrizioni drastiche alla vendita di armi per adesso non hanno alcuna probabilità di essere approvate, almeno a breve termine. La tipologia degli americani che vogliono armarsi, che si tengono stretto il diritto all'autodifesa è più complicata di quanto si creda. Vediamo questo video in cui due giovani donne di colore promuovono su YouTube l'uso delle armi per autodifesa. Questo show was for the ladies, and for the ladies in your life, your sisters, your moms, your girlfriends, your wives, your daughters. Make sure that they understand that firearm carry, it is okay. It's okay to exercise your Second Amendment right. And Corinne and I are here today to help you understand as women and the women in your family, it is time to protect yourself and your families. And it's very important to get firearm training. And for those of you who do carry, it'll help you be more proficient or efficient with your firearm. And for those who are very uncomfortable with firearms, it'll help you to become more comfortable. Sei una mamma, sei una sorella, sei una figlia, devi esercitare il diritto del secondo emendamento della Costituzione, il diritto a detenere armi per autodifesa. Questo video per un pubblico europeo è abbastanza sconvolgente, magari grottesco, però questo è il genere di confidenza che molti cittadini americani e americane hanno con le armi da fuoco e non sono solo maschi bianchi di destra a sostenere il diritto all'autodifesa. Ma nella città dove abito io, a New York, il possesso di armi è diffuso soprattutto tra i black, anche perché sono quelli che hanno più rischio di trovarsi di fronte a una sparatoria gang sul marciapiede davanti a casa loro. Parliamo di un altro capitolo spesso incompreso del presente americano, le politiche migratorie. Biden, come Trump, usa metodi duri contro i clandestini, per esempio le espulsioni veloci e i centri di detenzione all'estero per i richiedenti asilo, in Messico, in Guatemala, in Colombia. Al tempo stesso però Biden, l'anno scorso, ha concesso 7 milioni di nuovi permessi di soggiorno a scopo lavorativo. Cioè Biden è consapevole che un'apertura indiscriminata delle frontiere è sbagliata, oltre a portare voti alla destra. Però il volume di concessioni, di green card e altri permessi di soggiorno a scopo di lavoro è unico al mondo. Questo ci ricorda che dal mondo intero tanta tanta gente vuole venire a vivere dove abito io, in America. E non sono solo i migranti poveri. Ad alimentare questo flusso di entrate c'è la fuga di cervelli dall'Italia, ma perfino dalla Francia, Germania, Inghilterra. Tra poco vedrete sul totem un triestino, Ricky Russo, che da qualche anno lavora a New York come guida turistica, soprattutto nel village. Questo servizio realizzato da Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni è un italiano che ha trovato e realizzato il suo sogno americano. Guardiamolo. Nel village veramente ogni angolo ha una storia da raccontare. Questo locale qua era famoso negli anni 60, The Commons. Bob Dylan scrisse Blowing in the Wind, qua dentro in un pomeriggio, in poche ore, storia della musica. E là in fondo invece c'era la casa di Serpico Alpacino nel film degli anni 70 che racconta una storia vera. Veramente ogni angolo c'è qualcosa da dire, da raccontare. Dal primo giorno quando sono arrivato qua mi sono sentito a casa, mi sono rilassato, come aver lasciato alle spalle, non so, uno zaino di 30 chili. Io ho investito tutto quello che avevo, mi sono venduto la macchina, tutto quello che avevo per iniziare una nuova vita qua. Faccio un lavoro che mi piace, guadagno bene, faccio una vita che mi piace nella mia città preferita. Venire a New York mi ha completamente cambiato la vita, stravolto la vita in positivo. New York è una città-stato, un'isola felice, è qualcosa di molto diverso, è la quintessenza dell'America ma nello stesso tempo è qualcosa di diverso, il melting pot, dove tante diversità vengono accettate. Io ho avuto il mio ufficio per molti anni in quel quartiere lì, ma continuiamo a parlare di sogno americano con il maestro del cinema italiano Pupiavati, perché tu hai un sogno americano da raccontarci, c'entrano la musica, in particolare la tua passione per il jazz, un grande musicista scomparso, una casa che è diventata casa-museo nel Midwest che secondo te assomiglia alla tua Emilia Romagna. Raccontaci il tuo sogno americano. Ma il mio sogno americano risale a tantissimi anni fa, quando in queste strade di Bologna arrivarono gli americani, ero bambino, mi ricordo che facciamo la finestra e vedere entrare i liberatori finalmente, io credo che un giorno più felice per questo paese non si sia mai più stato. Tutti i cortili di Bologna diventarono sale da ballo, ma il mio rapporto personale invece, individuale con gli Stati Uniti nasce da una coincidenza. Mio madre andava a prendere i libri in affitto in una libreria dei frati di San Giuseppe e fra i libri che affittava, un giorno mi portò questo libercolo che era il jazz ed erano sette biografie di un certo Jean Lang dei più grandi jazzisti del mondo. Fra questi la vita di un certo Leon Bix Beiderbank e mi affascinò la vita di questo ragazzino che aveva contro tutti, veniva dalla Germania, era arrivato in America, aveva imparato da solo, suonava cornetta, stava su Mississippi, c'era una serie di componenti affascinantissime. Mi sono fortemente riconosciuto e ho sempre pensato che sarei voluto diventare Bix Beiderbank. Fino a quando un giorno raccontando questo mio sogno adolescenziale, che poi si è tradotto nel fatto che sono diventato musicista, non sono diventato Bix Beiderbank, tuttavia sono diventato musicista, l'ho raccontato a Fernanda Pivano, che è un'americanista illustre, la quale nella sua generosità sconfinata a un certo punto mi procurò una biografia di 350 pagine inglese di Bix Beiderbank, così dettagliata per cui io con il mio dizionarietto tutte le sere traducevo 4-5 pagine e alla fine di queste 350 pagine. Federico, io ne sapevo tanto di Bix Beiderbank, da indurmi a fare quel gesto, ero già adulto, avevo già dei figli, avevo già fatto dei film, ero già una persona che con queste cose non se le poteva più permettere, invece l'ho fatta, sono tornato bambino, ho scritto Babbo Natale e chi era Babbo Natale? Il mio Babbo Natale, il governatore dello Stato dell'Iowa, che era lo Stato dove era nato questo Bix Beiderbank e gli ho scritto, caro governatore, voi avete Buffalo Bill, che conoscono tutti, ma avete anche lì un Bix Beiderbank che non conosce nessuno ed è stato il primo gestista bianco dell'orchestra d'America. Perché non facciamo un film sulla sua vita? E questo governatore ha risposto come Babbo Natale e mi ha mandato su un piccolo aereo un suo emissario, che è arrivato e ha voluto saperne di più. E lì è nata una favola, una grande favola, per la quale noi poi siamo stati invitati negli Stati Uniti, siamo andati a visitare questa casa che era tutta ricoperta da mianto, era occupata dai figli di fiori di Chicago, perché Davenport è vicino a Chicago. E quindi era totalmente buia e con questa delegazione della città, il sindaco, il medico, tutte queste persone, più autore, il capo della polizia, hanno aperto questa porta e questa porta si è aperta sul buio di questo interno spaventevole. E io ero l'unico che sapeva tutto. Sono entrato e mi sono mosso all'interno di questo buio e ho detto qui era la cucina, qui era la sala da pranzo, qui dove dormiva Barney suo fratello, sono salito sopra, qui dove Bix ha aperto l'armadio per cercare gli asciugamanni e ho trovato con i suoi genitori, non avevano mai scartato i pacchi con i dischi che lui mandava per ascoltarli da New York ed erano allibiti. E ho detto a mio fratello, ho detto il filo possiamo fare qui e mio fratello ha chiesto ma questa casa è in vendita? Hanno detto sì, certamente. E quanto costa? E ci hanno detto 25 milioni, costava niente, erano lire e avevamo lo scenografo di Carlo Simi, lo scenografo di Sergio Leone, quindi abituato a fare queste cose americane. E abbiamo comprato questa casa e l'abbiamo restituita a quello che era ai suoi tempi, attraverso le mappe e le fotografie, esattamente filologicamente ricostruita perfettamente. E io sono diventato il padrone di casa, del mio mito. E quando il governatore è venuto e con una cerimonia pubblica che abbiamo applicato sulla porta della casa questa placchetta che dice che qui è nato Leon Bixby, perché nel 1937 è morto lui... Ecco, abbiamo fatto sì che questa casa non possa più venire demolita. Questa casa rimarrà per sempre la casa di Bixby. Ci tornerai? Ci tornerò a, spero, ottobre-novembre a girare un film gotico. Chiamami eh. Certo. Voglio esserci. A far la parte del cattivo. No, no. A vedere. Chiamami come testimone osservatore. Volentieri. Senti, tra l'altro voglio ricordare che tu hai citato all'inizio della tua risposta Fernanda Pivano. È stata una grande intellettuale italiana. Molti italiani della tua generazione, ma anche della mia. Abbiamo avuto un sogno americano grazie alle traduzioni di Fernanda Pivano, grande traduttrice di Hemingway, Steinbeck. Che gli commissionavano Cesare Pavese. Certo. Quindi abbiamo un duo straordinari. Stradinari, straordinari. Senti, intanto ti ringrazio. Passo all'altra generazione che è qui con noi questa sera. Vorrei chiedere agli studenti che sono con noi. Se qualcuno di voi ha un sogno americano, banalmente e concretamente se qualcuno di voi pensa di iscriversi a una università americana, sta facendo domanda di iscrizione e se così facendo vi siete anche cimentati con tutte le regole, le corsie preferenziali che regolano gli accessi al sistema universitario americano. Nessuno vuole iscriversi a un'università americana. Questa è una novità. Io credo che dieci anni fa si sarebbero alzate molte mani tra di voi. Però prima abbiamo parlato anche di innovazione, il rapporto tra università e mondo delle imprese. Qualcuno pensa che poi successivamente nella carriera professionale potrebbe esserci un approdo negli Stati Uniti? Ecco, vedo una mano alzata. Buonasera, sono Stefano Assengo, 23 anni. Frequento l'Università di Bologna nel Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo. Il mio sogno americano è molto più dettato da un carattere ambizioso. Ho, diciamo, questa ambizione di seguire ciò che sento, di portarlo avanti perché oltre a frequentare l'università io scrivo poesie, ma a volte anche dei progetti teatrali e di cinema e mi piacerebbe cercare di portarlo al di fuori dell'Italia. E quindi fra le varie opzioni ho sentito l'America anche perché ho la fortuna che la mia famiglia a livello di Bisnonni e Trisavoli sono stati già in America e quindi sentire che loro ce l'hanno fatta in qualche modo a riuscire a portare la loro fortuna dall'Italia all'America mi spingono di fare altrettanto. Grazie. Prego. Siccome sono rimasto un po' colpito che fossero così pochi tra di voi quelli che hanno l'America tra i loro sogni, tra i loro progetti. Magari è il caso di rovesciare la domanda e chiedere invece se qualcuno vuole spiegare cosa vi spaventa dell'America e ve la fa cancellare dai vostri orizzonti, dai vostri progetti. Prego. Quello che spaventa dell'America è un paese che sta diventando sempre più polarizzato da un punto di vista politico. Si ha da un lato gli stati che vanno all'indietro sulle leggi sull'aborto per esempio e si ha una politica che per le prossime elezioni presenterà i due candidati più anziani della storia, di nuovo. Quindi un paese con grandi differenze economiche dove si ha la sensazione che non ci sia un posto per i più svantaggiati. Manca il sistema di supporto statale, la sanità, le armi vendute come caramelle, le sparatorie nelle scuole. Può capire che per un europeo sono fattori, come dire, importanti. Io stesso avevo la possibilità di andare negli Stati Uniti a proseguire il mio percorso di dottorato. Ho però deciso di non andare e ci sono varie ragioni, però queste che l'ho elencato sono alcune di queste. E proseguire invece la mia carriera in Canada, che è un paese simile ma forse profondamente diverso e più simile all'Europa per valori e per impostazione dello Stato, se vogliamo. Sì, sì. L'alternativa del Canada la conosco abbastanza bene, ogni tanto ci vado. Il Canada è l'America gentile, è l'America che piace agli europei, è più rassicurante, ha elementi di socialismo, se vogliamo, welfare, la sanità pubblica, è una via di mezzo. Siamo arrivati al termine di questo nostro incontro e avete il diritto voi a fare delle domande a me, avrete delle curiosità, avrete degli interrogativi che non sono stati ancora soddisfatti. Salve, mi chiamo Gloria Carloni, ho 20 anni e frequento il corso di Economics, Politics and Social Sciences qui all'Università di Bologna. Buonasera. La mia domanda riguarda invece chat GPT. Ho come l'impressione che in Italia ci sia ancora una gran cultura del sacrificio e del duro lavoro dietro tutti gli obiettivi che una persona può raggiungere nell'arco della propria vita. Credo invece che in America ci sia un po' più la cultura del fine giustifica i mezzi, quindi volevo sapere la sua opinione. Grazie. Potrei approfittarne per citare di nuovo Pupi Avati e ricordare quello che ci ha detto sulla creatività artistica, nel senso che c'è anche tanta fatica dietro. Gli americani in questa fase, soprattutto poi direi gli americani della vostra generazione, sono pronti ad accettare tutto ciò che nell'innovazione tecnologica gli può facilitare la vita. Un po' diverso è l'atteggiamento degli asiatici, sia gli asiatici che vivono in Asia, sia gli asiatici che vivono in America, che dal confucianesimo hanno un'etica del sacrificio, del duro lavoro. Io capisco perfettamente che l'innovazione tecnologica, incluso c'è GPT, incluse le macchine intelligenti che apprendono da sole e che scrivono al nostro posto, possono essere degli strumenti di lavoro. Detto questo non vorrei che diventassimo un po' troppo pigri, che i nostri muscoli, anche i muscoli cerebrali, subissero una atrofia se tutte queste macchine ci inducono a non lavorare più. Federico, Federico, ho una domanda, l'ultima. Pupi. Ma a cosa serve l'America? Bella domanda, Pupi Avati ci voleva questa perché è il titolo di questa prima puntata. In maniera esplicita io non ho ancora risposto. A cosa serve l'America? È un titolo un po' provocatorio che ho voluto dare a questa puntata. Quindi, se mi permetti, anche la mia risposta è un po' provocatoria. Io direi che l'America serve prima di tutto ad alimentare i nostri complessi di superiorità e tutti si sentono più bravi quando parlano dell'America. Gli europei si sentono una civiltà superiore, i cinesi non ne parliamo, hanno dei complessi di superiorità infiniti, ma anche i russi, anche Putin, quando parla dell'America, ne parla come di una schifezza. E questo è indicativo però, come l'America è diventata una specie di misuratore di ciò che noi pensiamo di noi stessi, quelli che crediamo essere i nostri valori. Poi in realtà l'America, dal punto di vista geopolitico, io credo, ha avuto, tu hai ricordato giustamente quella pagina meravigliosa della tua infanzia che è stata la liberazione dell'Italia. Credo che dopo quella ci sono state delle pagine oscure, abbiamo ricordato la guerra in Vietnam, la guerra in Iraq, delle pagine anche criminali della politica estera americana. Però senza l'America io penso che vivremo in un mondo peggiore. Io penso che ci sono altri imperialismi perfino più aggressivi, persino più feroci, che non hanno quei meccanismi di controllo interni. Cioè vedi, tu hai qualche anno più di me, ma tutti e due abbiamo i capelli bianchi. Noi ci ricordiamo le piazze del mondo invase da manifestazioni Yankee go home, americani tornatevene a casa, contro la guerra di Vietnam, contro la guerra dell'Iraq, ce le ricordiamo quelle manifestazioni, ma quelle manifestazioni sono cominciate in America stessa. L'America al suo interno ha degli anticorpi che contestano gli errori dell'America, che mancano alla Cina e mancano alla Russia, e mancano a qualunque altro impero o aspirante impero, quello persiano, quello turco. In questo l'America rimane un organismo vitale al quale tutti dobbiamo guardare, secondo me, con un po' più di rispetto di quanto siamo soliti fare. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio in particolare il maestro Pupiavati e... Appuntamento. Appuntamento tra una settimana per la puntata dedicata alla Cina.